Oggi, con il dottor Besacchi, Group CEO di Feralpi, parliamo di innovazione digitale nel settore dell'acciaio. Feralpi trae l'avviamento dell'innovazione digitale da un progetto più ampio, che riguarda la sostenibilità, e da lì è nata anche la necessità di innovare le infrastrutture e tutto quanto riguarda gli aspetti legati al digitale. Abbiamo attivato già dal 2017 piattaforma cloud per poter raccogliere in maniera condivisa tutte le informazioni e poter anche dare l'opportunità a tutti gli utenti di lavorare in modo collaborativo sia con gli enti interni sia con gli enti esterni. Questo ha portato a grossi vantaggi sia dal punto di vista della gestione delle informazioni in termini di costi, di velocità, nella condivisione sia dall'altra parte a rendere il dato un elemento centrale nelle attività aziendali.